Prima fila, accanto a Gambino e Lavinia, scusate, no, Liriana, io voglio vedere come padre ad alzare il ventre, eh sì, scusa, non c'è il ventre scoperto, non ha il ventre scoperto, non ti puoi sfogliare, ma così dai. Prima fila, accanto a Gambino e Lavinia, in bocca al l'uovo per tutto, non ha capito cosa vuoi fare da grande però. Voglio continuare a studiare Cosa studi? Scienze motorie Scienze motorie? A aprire un centro di riabilitazione E che centro è la guadagnia in mente del calendario? Nulla, sono due cose separate Per farlo vedere i tuoi figli quando le avrai Esatto Va bene Vignana in bocca al lupo Grazie Grazie alla mamma Maria La prossima storia inizia da una foto Questa foto ha fatto sognare, innamorare, litigare Questa foto che risale a 1962 ancora oggi